Sargon di Accad, unificatore della Mesopotamia e figura leggendaria. Sargon di Accad, il cui nome significa il re è legittimo, è una figura enigmatica e affascinante della storia antica. Regnò circa dal 2335 al 2279 anno corrente, secondo la cronologia media, e fu il fondatore e primo re dell'impero accadico, il primo grande impero della storia conosciuto in Mesopotamia. Le sue conquiste militari e il suo regno di 56 anni hanno lasciato un'eredità duratura, che lo ha reso una figura leggendaria nella storia e nella letteratura mesopotamica. Le origini e l'ascesa al potere. Le origini di Sargon sono avvolte nel mistero. La leggenda narra che egli fosse nato da una giardiniera e che fosse stato deposto in un cesto di vimini sul fiume Ofrate, venne salvato da un acquarellista e crebbe come giardiniere, prima di salire al potere e diventare re. Nonostante la natura leggendaria di queste storie, è certo che Sargon non proveniva da una famiglia reale. Si distinse per le sue abilità militari e politiche, diventando un consigliere del re di Kish, Urzababa. In seguito, Sargon detronizzò Urzababa e si proclamore di Kish, unificando la regione della Mesopotamia centrale. Le conquiste militari e l'impero accadico. Sargon non si limitò a governare Kish. Intraprese una serie di campagne militari che lo portarono a conquistare un vasto territorio, estendendo il suo dominio dall'Elam fino al mar Mediterraneo, includendo la Mesopotamia e parti dell'Anatolia. L'impero accadico da lui creato fu il primo grande impero della storia conosciuto in Mesopotamia e rappresentò un punto di svolta nella storia della regione. Un regno di innovazioni e prosperità. Sargon non fu solo un conquistatore, ma anche un abile amministratore. Sotto il suo regno, l'impero accadico prosperò. Sargon introdusse un sistema di tassazione centralizzato, unificò il sistema di pesi e misure e promosse il commercio e l'agricoltura. Inoltre, egli diede impulso alle arti e alla letteratura, favorendo lo sviluppo di una cultura accadica unitaria. La leggenda di Sargon La figura di Sargon divenne leggendaria già in epoca antica. Le sue gesta furono celebrate in poemi epici e in inni, che lo descrivevano come un repotente e saggio, favorito dagli dèi. La sua leggenda sopravvisse per secoli e ispirò anche autori successivi, come lo storico greco erodoto. Eredità di Sargon L'impero accadico di Sargon non durò a lungo dopo la sua morte. Tuttavia, il suo regno lasciò un'eredità duratura. Sargon è considerato uno dei più grandi re della storia della Mesopotamia e la sua figura continua ad affascinare. Studiosi e appassionati di storia antica.